Una influencer e due calciatori sono le vittime di due cittadini croati arrestati dalla polizia, gravemente indiziati di essere i presunti responsabili di tre furti in appartamento, avvenuti tra l'ottobre del 2021 e il febbraio del 2022, per un totale complessivo di circa mezzo milione di euro di bottino. Le indagini, svolte dal personale della seconda sezione della squadra mobile di Milano, hanno consentito di poter identificare una banda di ladri specializzata in furti di abitazione di personaggi noti. Nel corso dell'attività investigativa, i poliziotti hanno appurato come gli indagati monitorassero i vari profili social per capire informazioni utili sui possibili obiettivi, quali ad esempio la loro presenza o meno in casa per mettere a segno il colpo. Individuata la vittima, gli indagati si intrufolavano in casa con manovre acrobatiche, documentate dalle telecamere di videosorveglianza, analizzate dagli investigatori. Il primo colpo risale alla notte tra il 16 e il 17 agosto, in corso Venezia, all'interno dell'appartamento dell'influencer Chiara Biasi, tra le migliori amiche di Chiara Ferragni. Una volta entrati, i due ladri le avrebbero portato via abiti firmati, cinque orologi, tra cui Rolex Epatek Philippe, e gioielli, tra cui anche un anello da 50 mila euro, per un valore totale di 200 mila euro. Vittima del furto del 23 dicembre del 2021 è stato invece Stefano Sensi, all'epoca calciatore dell'Inter. Dalle indagini è emerso come uno dei due arrestati si è entrato nel suo appartamento di via Gioe Colombo, da dove ha portato via gioielli, orologi di varie marche e borse per un valore complessivo di circa 200 mila euro. La sua identificazione è stata possibile grazie al lavoro svolto dalla polizia scientifica su una traccia di sangue che gli agenti della squadra mobile hanno rinvenuto nell'appartamento svaligiato e che ha dato poi un riscontro positivo. Entrambi gli arrestati sono poi presumibilmente responsabili del tentato furto in un attico del calciatore dell'Inter, Cialanoglu, consumato la sera del 5 febbraio 2022 in via Traiano, quando durante un servizio di pedinamento gli investigatori hanno notato uno dei due arrestati unitamente a un terzo complice che scavalcava il cancello dello stabile, mentre il secondo arrestato rimaneva in strada facendo da palo per circa un'ora. Subito dopo i poliziotti li hanno fermati e controllati, rinvenendo numerosi arnesi da scasso. La polizia di Stato ha rintracciato i due indagati all'interno del campo nomadi di via Monte Bisvino e a Bollate, dove a seguito delle perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni orologi, borse di valore e altri beni di lusso da ritenersi anch'essi di provenienza furtiva. Il terzo complice del tentativo di furto avvenuto in via Traiano è invece tuttora ricercato dalla Polizia di Stato.